Mauro Giustibelli, Exhibition Manager di Motodays Mauro, quest'anno Motodays ha puntato moltissimo sul sociale e sulla solidarietà sono tanti gli eventi, la possibilità ai non vedenti di poter salire su una moto come passeggeri i diversamente abili potranno provare scooter e moto in totale sicurezza e poi ci saranno, diciamo, ci sono anche i ragazzi del freestyle che fanno la mototerapia e la bellissima iniziativa Garage Italia Ma guarda, quest'anno tra le tantissime proposte che abbiamo ricevuto ne abbiamo individuate alcune che ci sono sembrate maggiormente, diciamo, non solo meritevoli ma anche caratterizzanti proprio il nostro settore Da Garage Italia che è un'iniziativa che è nata effettivamente già nella primavera dello scorso anno e che ci ha subito coinvolto moltissimo perché in realtà si basa su dei principi molto semplici ma che riteniamo validissimi innanzitutto è fatta da motociclisti da motociclisti che amano andare nel deserto e amano utilizzare i propri ride, le proprie occasioni di turismo per fare un'attività di solidarietà e questo già è apprezzabile e poi c'è la volontà proprio di creare delle professionalità sul territorio per far sì che questi ragazzi possano poi rimanere nel proprio paese e possano trovare una propria professionalità nel proprio paese siccome sappiamo in realtà la grandissima manualità che hanno in moltissimi paesi africani sulla gestione delle operazioni di meccanica non solo per le moto ma anche per le auto quindi è un'iniziativa che ci è piaciuta devo dire da subito e che va avanti da nove mesi anche perché avrete raccolto anche materiale da portare a questi ragazzi stiamo raccogliendo materiale stiamo raccogliendo assolutamente sì anzi abbiamo tutti i riferimenti per poter contattare l'associazione Bambini nel deserto per poter contattare direttamente noi perché stiamo cercando attrezzature per officina attrezzi di qualsiasi genere moto, scooter, chiunque abbia da dismettere questo tipo di articoli ci contattasse perché noi abbiamo come utilizzarli insomma e per le altre iniziative ne hai nominate tantissime ieri c'è stata la mototerapia ringraziamo tantissimo Vanni Oddera che fa questa iniziativa che è veramente bellissima coinvolgere dei ragazzi che sono diversamente abili con il freestyle che forse è l'attività più estrema con cui viviamo il nostro settore era stata devo dire veramente emozionante grazie sentitissimo a Vanni e a tutti i ragazzi del gruppo perché è veramente apprezzabile quello che fanno quindi cerchiamo di fare il possibile ovviamente non possiamo fare tutto e ci piace soprattutto fare le cose che siano di solidarietà legata al mondo delle due ruote insomma non solidarietà di altro tipo che ci piacerebbe molto poter fare e cui poter dar seguito però obiettivamente tutto non è possibile fare beh Mauro che dire complimenti siete una bella squadra continuate così grazie un salutone a tutti gli amici di Biker Explorer grazie a tutti